Bimbi sono stati qua, sono stati qua prima le prime e gridavano molto più forte di voi. Ci siamo tutti? Sì! Ok, già va meglio. Avete fatto ad iniziare? Sì! Noi non trovo, abbiamo fatto oppure no? Sì! Ok, passerò con il lievito, ok? E con la forchetta in orizzontale faremo movimenti circolari, ok? Per mischiare tutto bene, ok? Poi, Noelle passerà con il miele. E cos'è che dobbiamo fare? Mischiare, 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 non voglio nessun grumo, ok? Deve essere tutto omogeneo. E con la fornire, mischiare, non voglio nessun grumo, ok? E con la fornire, mischiare, non voglio nessun grumo, ok? Amore è tale, Mischiare, non voglio nessun grumo. Ok, passeremo adesso col primo giro di farina. Ne faremo parecchi. Questo primo giro serve solo che era una specie di crema, ok? Senza giù, mi raccomando, sui bordi di solito rimane tanta farina. Ti vediamo tutto su, ok? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 Sì.